Stasera un artista canterà per me. Pensavo che fossero qui per la festa del Santo Patrono. La festa viene celebrata fuori, tra la gente, ma Tano ha riservato il giardino per noi soli. Non perdiamo altro tempo. Tano, hai già spiegato all'avvocato Terrasini i termini della questione? Sì, come mi aveva detto, sì. Ebbene, che ne dice? L'affare ci interessa. Lei pensa di essere in grado con i mezzi di cui dispone, con i suoi contatti, di far fronte ai problemi organizzativi dell'operazione? Ad alcune famiglie amiche è già capitato di avere rapporti d'affari con i paesi arabi e sempre con soddisfazione reciproca. Però c'è una cosa che Dino Alessi sa fare molto bene, e mi chiedo se voi sarete... Dica pure. Per fare in modo che il carico arrivi in Italia passando attraverso i Balcani, Dino si è messo in contatto con qualcuno a Roma che dovrebbe facilitare il trasferimento. Mi capisce? Finanza, servizi segreti, sono tutti ambienti dove contiamo molte amicizie. Non sarà difficile trovare quel qualcuno e convincerlo ad accortarsi con noi.